...quello che i nostri predecessori ci hanno insegnato. Ci ricordiamo tutti a San Nicola quello che è successo l'8 settembre del 1905. L'Arcifrede Parcopio, in quei tempi, ha istituito questo inno. Tutti ci ricordiamo attraverso la storia che quella notte alle 3 del mattino è arrivato un tremendo terremoto che ha sconvolto tutta la Calabria. Stefanagone ha pagato le spese pure perché oltre 60 e più persone hanno perso la vita. E là, tra il monumento e l'albero, dicono che hanno fatto un ammucchio di morti. E poi col carro trainato dai voi le portavano al cilitero. Questa fermata è significativa, cari amici. Ci raccomandiamo a San Nicola perché non possa più venire il terremoto. Ci guardano dei tuoni, ci guardano delle peste. E poi preghiamo anche per questi carissimi morti che hanno pagato il suo prezzo della vita, da tutto quello che è successo e quello che arriva le notti. Riccolausso santo e dei antisti, provvidenzie potermagna, Miraculorum massimum, firende visti gentibus. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 San Nicola, nostro protettore, che canta per noi. Grazie. 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 Grazie.